Buon 25 aprile, ben ritrovati insieme in diretta per l'analisi tecnica che prosegue in un contesto di stabilità sul nostro Fuzzimib, il paniere italiano di riferimento in questo momento è esattamente sulla soglia della parità a quota 34.254 punti. Il DAX di Francoforte e il Cacaran di Parigi sono in flessione di circa lo 0,4%. Tra i titoli da segnalare questa mattina sul nostro MF Italy 40 sicuramente STM un rialzo dell'1,7%, ancora buon posizionamento per Biper, ERA, ERG e Banco BPM, mentre Leonardo è il titolo che cede di più, circa due punti percentuali e poi a seguire Moncler, Ricordati, Campari e Iveco. Entriamo subito nel merito di quelli che sono i titoli che si muovono di più, un bilancio sulla giornata odierna anche di fronte ovviamente ai risultati trimestrali, di fronte alle dichiarazioni che arrivano da Francoforte, dalla Banca Centrale Europea, in particolare questa mattina a parlare. È stata Isabella Schnabel, membro del Consiglio esecutivo della Banca Centrale Europea, in una conferenza pubblica ha dichiarato l'inflazione dei beni sta diminuendo rapidamente, mentre l'inflazione dei servizi rimane resistente. Dobbiamo sicuramente valutare, dice Schnabel, questi elementi in vista di giugno, ovviamente con il meeting su cui il mercato scommette per un primo taglio dei tassi di interesse. Ospite questa mattina della nostra analisi tecnica, vado subito a salutarlo, è Cartisano, buongiorno e bentrovato. Buongiorno Irene, un caro saluto a te e a tutti i tere spettatori. Grazie per essere con noi questa mattina, per accompagnarci nella lettura del mercato, lo andiamo a fare subito insieme. Ricordo anzitutto però il numero per poter interagire con il nostro Andrea Cartisano, consulente indipendente di Giotto Cellino Sim, il numero di telefono in sovraimpressione che ormai conoscete anche benissimo, 334-6643-693, sms o whatsapp. Andrea, parto subito dal chiederti anzitutto un primo bilancio di questa giornata, di questa seduta che vede debolezza sul contesto europeo. Il nostro Futsimib cerca di difendersi a partire da alcuni titoli e poi ne parliamo nel dettaglio. In realtà è un mercato molto più complesso di quello che si voglia far credere. Mi è venuto in mente questa mattina quando venivo in ufficio il famosissimo best seller di Robert Schiller, premio Nobel per l'economia, professore merito, tra l'altro è lo Schiller dell'indice Case-Schiller, Euforia irrazionale dei mercati, pubblicato a fine anni 90 negli Stati Uniti e edito dal mulino nel 2000 in Italia, che parla di mercati senza una direzione razionale e in questo momento siamo proprio in pieno in questa situazione. Facciamo qualche esempio. Tesla rilascia dei dati oggettivamente molto deludenti, ben sotto le stime, ma in after hour arriva a guadagnare oltre il 13% perché Musk fa, e per carità è il suo lavoro, è un fenomeno come comunicatore e forse secondo solo a Steve Jobs, lancia l'idea di un modello ancora più economico per aumentare le vendite e il mercato gli crede. Abbiamo l'esempio di Meta che ha pubblicato un primo trimestre tutto sommato piuttosto positivo, adesso tira fuori lo spauracchio dei costi per gli investimenti in intelligenza artificiale e il titolo arriva a perdere oltre il 15% in after hour. E il caso più clamoroso, tu Irene giustamente non sei una trader per cui devi limitarti a segnalare quello che accade, ma dietro STM di oggi c'è un mondo, un mondo che fa di un crollo iniziale una clamorosa occasione d'acquisto in maniera totalmente inaspettata perché STM ha dato dei dati estremamente deludenti e addirittura, pur essendo molto deludenti, ben sotto le stime. Il titolo è arrivato a perdere tantissimo nella prima fase di giornata, poi addirittura è stato sospeso per eccesso di rialzo a 39,26 e è aperto direttamente in forte gap up e è andato a fare un massimo addirittura a 40,31. Per cui è un mercato molto molto complicato. Oggi ovviamente per noi sarebbe giornata festiva e festa nazionale, ma i mercati azionari sono aperti, purtroppo capita anche il 6 di gennaio e io da tempo dico che sarebbe meglio restare chiusi perché i volumi tendenzialmente sono molto molto bassi. Però, come dicevo prima, la situazione è molto complicata e irrazionale. Per quanto riguarda il nostro futures, che è quello che interessa di più agli spettatori di questa fascia, ieri ha fatto uno spike a rialzo nella primissima fase di giornata a 34.585, per cui è vicinissimo in realtà al target più importante e dobbiamo andare molto indietro a febbraio 2008 dei 35.105, ma sicuramente movimenti come quello di ieri possono anche essere considerati talvolta top di periodo. Per cui massima prudenza e bisogna a questo punto capire se il mercato avrà ancora spazio per andarsi a cercare nuovi massimi, oppure se inizi nuovamente una fase di correzione che potrebbe arrivare fino ai minimi di breve periodo del 19 di aprile, ovvero 32.635. Questo è il range. Allora, io ti chiedo di approfondire subito STM. L'hai accennato, peraltro, neanche brevemente, però abbiamo intravisto anche il grafico. Allora, andiamo insieme a vedere perché, ricapitolo rapidamente per chi ci ascolta, i numeri del gruppo che ha chiuso il primo trimestre 2024 con ricavi pari a 3 miliardi, ha sfiorato i 3 miliardi e mezzo di dollari, parliamo di un calo a doppia cifra del 18,4% anno su anno sotto le attese del consenso che si aspettava un numero relativo ai ricavi attorno, è superiore ai 3 miliardi e mezzo. È sicuramente un'indicazione importante per il mercato, è sceso anche il margine lordo al 41,7%, risultati insomma che vedono anche l'ebit contrarsi del 46% a 550 milioni. Questi sono alcuni dei numeri che poi in giornata vi andremo ancora a riepilogare. C'è in particolare anche un abbassamento delle previsioni sul fatturato in tutto il 2024. Vorrei chiederti subito un commento su questo perché anche sul sito di milanofinanza.it c'è un articolo molto diffuso, ora magari ve lo faccio vedere con l'aiuto della regia, dove ci si va a focalizzare sostanzialmente sui giudizi degli analisti che in questo momento si domandano se sia l'ultimo abbassamento delle previsioni sul fatturato per il gruppo o appunto bisogna aspettarsi ancora qualche passo indietro ulteriore. Ti chiedo subito un commento per quanto riguarda l'analisi tecnica perché dicevi c'è una situazione sicuramente complessa se guardiamo alla storia di STM e il mercato legge in questa giornata un'occasione di acquisto. Ci aiuti a capire perché? Perché come ti dicevo prima è un mercato irrazionale governato dagli algoritmi. Adesso rubo solo 30 secondi per spiegare tecnicamente quello che è successo. Giro un attimo la testa non è un bel vedere però così ho i dati precisi di riferimento. Ieri il titolo chiude a 39.235. Questa mattina apre in profondo gap down giustamente dal mio punto di vista visti i dati così deludenti a 37.39.5. Va a fare un minimo a 36.805 poi sospende al rialzo a 39.26, riapre direttamente in gap up a 39.80 dopodiché è andato a fare un massimo a 40.31 e mentre stiamo parlando è poco sotto 40.10. Ovviamente quello che è accaduto è assolutamente inspiegabile perché anche prendendo il parametro più utilizzato dal mercato anglosassone ovvero l'EPS è uscito a 0.54. Le previsioni erano sopra 0.58. Quindi se andiamo a esaminare ogni singola voce che siano ricavi, che sia le bidda, che sia l'ebit, che sia l'utile netto, i risultati sono clamorosamente negativi. Per dare un'idea ai telespettatori, nel primo trimestre 2023 aveva fatto più di un miliardo di utile netto, questo trimestre 513 milioni, nell'ultimo trimestre 2023 aveva fatto 1.076 milioni di utile netto, siamo a 513. Quindi è inspiegabile questo movimento. Allo stesso tempo però il titolo ha chiuso il gap che aveva lasciato aperto sotto a 37.58. Quella di oggi si configura come una candela al momento che è un engulfing bullish, quindi apre lo spazio per un ritorno sulla media mobile a 50 che è 40.67 e poi c'è la media mobile a 100 che è 41.65. Quindi perdonami la nota di colore, chi aveva STM si è legato e oggi in questo momento ne sta beneficiando, è stato molto fortunato. Ok, quindi insomma al di là di analisi fondamentali o tecnica, diciamo che qui c'è una buona dose di fortuna che va considerata. Andrea, è raro? Assolutamente sì, c'è, non si sa ancora chi dopo 100 anni dice che nella vita è meglio essere fortunati che bravi. STM oggi ne è la dimostrazione. Allora, ti ringrazio per questo. Vorrei iniziare a porti ovviamente a girarti le tante domande che stanno arrivando. Parto da Stellantis, così recuperiamo anche il grafico. Domenico ci chiede un livello di ingresso sul titolo. Ma allora, in fasi di mercato come questa, a mio avviso possono prendere nuove posizioni a rialzo solo coloro che hanno un corretto money management. Cosa significa? Che comprando STM anche che i prezzi attuali siano in grado di stopparsi già sotto il minimo del 22 di aprile che è 22,575. Perché la perdita di quel livello aprirebbe lo spazio a ulteriori ribassi 22,305, 22,16, 21,83 e potrei continuare. Perché quel livello è molto importante? Perché il minimo del hanging man appunto del 22 aprile, candela seduta in cui poi il titolo ha chiuso a 23,135 e sancirebbe anche la perdita della media mobile a 100 che è 22,82. Considerato i buoni risultati pubblicati sia da General Motors che da Ford, è probabile che da questi livelli STM provi un rimbalzo, scusami Stellantis provi un rimbalzo. Con un primo obiettivo a 24,32 e poi sulla media mobile a 50, 24,87 e poi 25,59. Quindi può comprare agli attuali prezzi di mercato a patto che sia in grado di darsi uno stop sotto 22,575. Ci chiedono anche un prezzo di entrata su Inuit, sono diverse le domande su questo. Allora Inuit purtroppo è un po' un oggetto misterioso in questo senso, che è una società prezzata più che bene dal mercato, anzi oserei dire sopravvalutata. Perché continua comunque a essere così attenzionata, perché sono ormai mesi che gira la voce che Ardian sia pronta a comprarsela. Però devo dire che i multipli sono già molto alti a questi prezzi, però vale un po' il discorso fatto per Stellantis. Si può tranquillamente comprare agli attuali prezzi, fissare un prezzo limite a 10 per capirci, a patto che si sia in grado di stoppare la posizione sotto il minimo del 17 di aprile che è 9,68 e mezzo. Per un ritorno sulla media mobile a 50, 10,32, poi 10,55 e 10,68. Quindi la maggior parte dei titoli che analizzeremo oggi, che ci chiederanno. Posso già anticipare che sono titoli buoni per un rimbalzo, ma non ancora per un'inversione. Bellissima domanda. Allora, ci chiedono, per iniziare in qualche modo a giocare in borsa, quindi a fare trading, da dove si deve partire? Qual è un titolo che invece ha meno dose di fortuna, diciamo così, tra le variabili? Qualcosa che per l'analisi tecnica, quindi evidentemente la domanda è su questo, è un po' più irregolare, ecco. Però mi dispiace Irene, ma devo contraddirti, perché è una pessima domanda. Niente, quindi chi vuole iniziare non... No, perché in borsa non si gioca, e questo è il passaggio che ci manca. Parliamo di educazione finanziaria, in borsa non si gioca. Andrea, sarebbe interessante sapere l'età di chi ci sta facendo questa domanda, perché... Allora, io che sono un manovale del trading e per mia scelta ho deciso di non studiare, ma di diventare albergatore, che la mia grande passione ha 20 anni, come tu hai le tue amate Marche, io la mia amata Liguria, tutti sanno che io vivo nel cuore la mia adorata bordiera e ho avuto la fortuna di avere questo albergo quando avevo 20 anni, in pieno centro in Corso Italia. E per me è stata veramente un'esperienza incredibile, perché avevo comunque 15 dipendenti a 20 anni. E per fortuna la mia carriera da trader e formatore mi ha portato a tenere anche delle lezio magistralis all'Università di Genova e adesso farò tra pochi giorni la mia terza lezio magistralis alla Cattolica di Milano, grazie al mio amico professore associato Andrea Paltrinieri. Perché ti faccio questa citazione? Non per autoincensarmi che da ignorante, da non accademico sono riuscito a entrare nell'università, perché uno degli interventi più riusciti di sempre all'Università Facoltà di Economia di Genova è stato, è un errore ritenere che in borsa si giochi. E ho fatto proprio tre ore di lezioni su questo. In borsa si studia tantissimo. Se siamo agli inizi ovviamente il consiglio è di partire però per poco tempo con quello che viene chiamato paper trading, operazioni fatte sulla carta, però partendo con uno schema già prefissato che deve essere quello di analizzare una società a livello di fondamentali. Quindi se soprattutto si fa economia è più facile capire ricavi, EBIT, EBIT, utile netto, posizione finanziaria netta, patrimonio netto e l'analisi tecnica perché è importante? Perché ci dà il timing. Per cui per iniziare da zero il consiglio è di partire su tutte quelle società che hanno solidi fondamentali. Il problema è che in questo mercato, ed è quello che è accaduto purtroppo nell'ultimo anno e mezzo, purtroppo non sempre le società che hanno ottimi fondamentali sono state premiate dal mercato perché molti dimenticano che questo rialzo è uno dei più concentrati di tutti i tempi su pochissime aziende. È partito tutto dalle sette sorelle, oggi diventate sei negli Stati Uniti perché Tesla ne è praticamente uscita e in Italia si è concentrato praticamente solo sui bancari, su Leonardo, su Iveco fino all'ultima correzione e sono state dimenticate tutte quelle aziende mid-cap e star che sono il nostro vero gioiello ed è per quello che ogni giorno o quasi abbiamo un'OPA, ieri Salcef, il giorno prima IWS. Per cui direi e mi taccio poi di concentrarsi sul segmento mid-cap star delle aziende più virtuose partendo da un bilancio. Apprezzavo il tentativo diciamo di approccio al mercato ma è giusta la precisazione che fai sul fatto che ci si rischia di scottare se l'approccio è quello di gioco rispetto alla borsa e appunto al trading. Questo è corretto però appunto avremmo bisogno di fare sicuramente più educazione finanziaria Andrea, magari anche insieme cerchiamo di farlo ovviamente sul canale. Torniamo a rispondere a chi invece evidentemente è un po' più navigato. Raffaele, buongiorno, per cortesia è possibile avere una analisi di medio termine, indica 6-8 mesi come range temporale su Enel. Troppo ottimistico immaginare di vederlo in area 7 Euro dopo un primo taglio dei tassi? Direi di sì se sarà un taglio isolato, se invece la BCE andrà contro e dobbiamo ancora vederci per crederci quelle che sono le indicazioni della Fed che se va bene quest'anno parrebbe tagli una sola volta, allora non forse 7 ma 6-82-4 massimo del 15 gennaio di quest'anno. Questo perché? Perché Enel non è il gioiello che tutti vogliono farci credere perché è un'azienda che purtroppo è brutto dirlo ma è il classico ex carrozzone di Stato perché è oberata da debiti davvero eccessivi a fine 2023 parliamo di 60 miliardi di Euro e ho già spiegato in più occasioni con Emerick ma lo faccio volentieri anche con te qual è il problema di Enel che quando c'era il costo del denaro a zero Enel riusciva a finanziarsi anche poco sopra l'1 per cento per cui non pesava a livello di marginalità un tasso così basso su 60 miliardi poi erano arrivati a essere anche più di 60 miliardi. Oggi Enel si finanzia con un range sulle nuove emissioni compreso tra il 3,5 per cento e il 4 per cento per cui questo pesa molto sulle marginalità del titolo. L'analisi del telespettatore è corretta però devono seguire altri tagli rispetto a un unico taglio isolato perché non sono 25 punti base perché non credo che la Lagarde che come i telespettatori sanno io non giudico particolarmente coraggiosa e adatta al ruolo che ricopre abbia il coraggio di tagliare 50 punti base però arriverà un momento nella seconda parte dell'anno magari nell'ultimo trimestre in cui ci sarà sicuramente una riscoperta delle utilities andrei comunque sempre su quelle che il mercato sta apprezzando di più a livello di larghe capitalizzazioni una ERA a livello di medie capitalizzazioni quindi una ASEA che il mercato sta già comprando in maniera convinta. Sì, peraltro riguardando i titoli migliori del nostro MF Italy 40 questa mattina ERA è esattamente subito sotto STM con un rialzo di 1,12 per cento, sicuramente una mattinata importante anche per ERA. Rapidamente per fare un bilancio sul nostro Futsimib vado a guardare i valori del nostro indice di riferimento con, sì siamo ancora lì sulla parità, 34.260 punti mentre sono in calo, DAX di Francoforte e Cacana di Parigi di circa mezzo punto percentuale. Allora ti giro un'altra domanda perché è un pubblico attentissimo a quello che diciamo, a come commentiamo e allora rispetto a un'indicazione che poco fa hai dato arriva la domanda di Massimo che chiede a proposito di aziende Midcap, Star, se possiamo analizzare e capire fino a dove può arrivare Fiera Milano? Beh sai, la domanda è molto interessante però qui il problema è un altro, ovvero parliamo di un titolo che valeva a fine ottobre 2023 meno di 1,80 ed è andata di recente l'8 di aprile a fare 4,43 e mezzo per cui ha fatto ben più del 100% in pochi mesi. Fiera Milano, certe volte tu hai delle convinzioni, parlo per me ma vale per tanti trader professionisti e non capisci perché venga veramente buttata via perché i numeri erano in realtà molto positivi, non giustificavano quei prezzi. Adesso il problema è opposto, essendo salita così tanto è sufficiente la marginalità che riesce a generare, l'attuale capitalizzazione di mercato è corretta? È quello che c'è da chiedersi e ovviamente le risposte l'avremo tra pochi giorni quando uscirà il primo trimestre del 2024 per Fiera Milano perché giustamente diamo molta importanza alle società americane ma anche noi siamo nella nuova report season del primo trimestre del 2024 per dire ieri è uscito a mercato aperto un ottimo trimestre per Mer Technimont, titolo operato già sui massimi, per cui prima di poter rispondere a questa domanda dovremo vedere se continua anche nel 2024 sulla stessa falsariga del 2023 a livello di fondamentali. Attualmente siamo in un trading range compreso tra 3,56 e i massimi di periodo appunto dell'8 di aprile 4,43 e mezzo. La mia idea è che il titolo voglia tornare nella parte alta del range per cui prima c'è un 4,16 e mezzo massimo del 9 di aprile poi 4,43 e mezzo massimo dell'8 di aprile. Allora Andrea dicevi prima è un mercato molto concentrato se guardiamo appunto al nostro listino chi è stato acquistato insomma ha preferito settore bancario Leonardo Iveco e poche altre eccezioni di Leonardo proprio per la corsa che abbiamo visto abbiamo seme monitorato ci chiedono Mara da Bologna ci chiede è consigliabile acquistare a questi prezzi Leonardo? A che prezzo? Cioè prevedi insomma ancora una possibilità di apprezzamento? Ma sai Leonardo è salita oltre i propri meriti. In borsa il timing è fondamentale. Prima citavo quel libro di Robert Schiller che invito tutti a leggere, io l'ho veramente consumato. Ridì ancora il nome così per chi l'ha perso prima lo recupera ora. Euforia irrazionale dei mercati di Robert Schiller, premio Nobel per l'economia, edizione Il Mulino. Non voglio parlare ovviamente perché non faccio nella vita colui che recensisce i libri però c'è un punto clamoroso che la gente dovrebbe fissarsi ed è all'interno di questo libro. Un dollaro americano investito sullo Standard & Poor's 500 nel 1966 e non toccato è tornato tale nel 1992. Per cui è per questo motivo che io sono dei pochi che non è diciamo devoto a Warren Buffett perché comunque per me soprattutto se non siamo multimilionari in borsa il timing è tutto. Per cui se Leonardo era e lo ha dimostrato l'occasione della vita quando valeva addirittura senza andare troppo indietro poco più di due anni fa, meno di sei, ha fatto praticamente per quattro, siamo tutti d'accordo. Poi c'è stata la guerra, i paesi hanno detto che tutti più o meno spenderanno più PIL per la propria difesa però adesso comprare Leonardo è un rischio perché tecnicamente ha perso la rialzista partita dal minimo del 5 febbraio. È molto vicino alla media mobile a 50 che è 21,23 e il minimo di periodo lo ha toccato il 10 aprile a 21,06. Per cui per rispondere al telespettatore io non sarei compratore su Leonardo prima di un ritorno a 19,75. Ultima nota perché prima abbiamo parlato di fondamentali, questo hype che si è creato sui titoli della difesa poi mi fanno tutti notare ma guarda i molti tipi di Rheinmetall sono i doppi di Leonardo. Rheinmetall ha il problema che è Ronaldo ovviamente raddoppiato, cioè siamo a 45 volte gli utili. Leonardo in un mercato normale varrebbe 15-20 volte gli utili, è andato a valere 25-26 volte gli utili. Quindi comprare sì solo su debolezza, target di acquisto potenziale è 19,75. Ed eccoci insieme ancora con Andrea Cartisano, questo è il numero, quello che vedete in sovraimpressione per le vostre domande a cui cerchiamo di rispondere in diretta, sms o whatsapp, 334-6643-693. Andiamo a rispondere a Roberto D'Acomo, Andrea, che ci chiede di Nexi. Vorrei entrare a questi prezzi, sembra un buon ingresso, che cosa ne pensate? Nel caso quale stop loss mettere? Ecco, questa domanda mi piace molto perché a proposito di educazione finanziaria, quando decidiamo l'ingresso su un titolo, l'errore che fanno la maggior parte di coloro che iniziano a investire in borsa è pensare quanto posso guadagnare. Il corretto approccio è invece capire quanto posso perdere o quanto posso permettermi di perdere. Esatto. Io ho comprato Nexi lunedì. Perché ho comprato Nexi lunedì? Perché ho valutato che con uno stop ragionevole, il mio stop è 5,224 minimo del 26 di ottobre, se vogliamo metterlo più stretto possiamo utilizzare il minimo del 18 di aprile che è 5,298. Per chi invece è investitore di medio-lungo periodo, ovvero è disposto a tenere il titolo settimane se non mesi, può allargarlo all'ultimo baluardo, che è il minimo storico del 25 di ottobre che è 5,012. In realtà la situazione societaria non è brillantissima. Prima abbiamo parlato del debito di Enel, in proporzione quello di Nexi è ugualmente molto pesante perché siamo attorno ai 5,3 miliardi di Euro e il titolo nell'ultimo periodo, perché l'ultimo massimo importante lo ha fatto il 7 di marzo a 7,21,4 è stato penalizzato enormemente, oltre che da questo debito, dal fatto di non essere riuscita a cedere le partecipazioni che avrebbero consentito una riduzione di poco meno di un miliardo di Euro di questo debito. Tecnicamente l'acquisto ci può stare a patto che sia fissato uno stop rigoroso. I target a rialzo per il rimbalzo, perché si deve parlare di rimbalzo, sono nell'ordine 5,81,4, 5,99, 6,13 avendo la media mobile a 50, a 6,21. Quindi la risposta ovviamente sì, a patto che in base alla sua propensione al rischio fissi uno stop tassativo nel caso il titolo dovesse tornare indietro. Mauro ci chiede invece a che prezzo secondo te è possibile entrare in Snam? Snam è un titolo veramente molto difensivo, che ha dei movimenti abbastanza lenti e raramente capitano fasi come quella partita da metà gennaio, che il titolo era arrivato a valere oltre 4,90 e a inizio febbraio, nella prima decada di febbraio, ha fatto un minimo a 4,27,5. Adesso si trova su una resistenza dinamica importante, perché se tracciamo la ribassista partita dal massimo del 16 gennaio transita proprio a livello di resistenza dinamica sui massimi toccati negli ultimi giorni. Vale un po' il discorso che stiamo facendo da inizio puntata. Posso comprare anche agli attuali livelli di prezzo con però uno stop obbligato sotto il minimo di periodo che è 4,17,9. I target di questo movimento di recupero possono essere la media mobile a 100, 4,49,2, quella a 200, 4,53,6, c'è poi il massimo del 15 di marzo che è 4,55,6. Nel medio lungo periodo è un titolo che secondo me può tornare però a 4,67,3 e poi a chiudere il gap lasciato aperto sul minimo del 19 gennaio 4,7,34. Allora andiamo a rispondere a un'altra domanda. Vediamo qua se riusciamo a trovare una domanda su titoli che non abbiamo già trattato perché ovviamente c'è sempre il problema di domande che ritornano frequenti. Allora io vorrei chiederti di questo, accolgo quest'ultima istanza che ci chiede di spostarci rapidamente dal listino italiano invece a quello americano, Andrea. È possibile farlo? Perché ci chiedono sull'S&P, quindi guardare all'azionario americano rispetto appunto alle prospettive di discesa. Quando dovrebbe scendere, quando entrare appunto sull'azionario americano S&P 500? S&P 500 te lo faccio volentieri al volo, se era un titolo specifico magari avrei dovuto cercarlo perché ovviamente sono tantissimi. Allora l'indice è in una fase di rimbalzo, il rimbalzo è avvenuto poco prima del test della media mobile a 100, attualmente per essere chiari è a 4.950 punti la media mobile a 100, il minimo di breve periodo è stato fatto il 19 di aprile a 4.953. Tra poco incontrerà la media mobile a 50 che è 5.120, poi abbiamo 5.168, 5.175. È ovvio che adesso entri praticamente per parafrasare la letteratura italiana tra coloro che sono sospesi, perché comunque c'è la stessa possibilità di un ritorno sui massimi anche storici di 5.264 come di un ritorno sui minimi di periodo a 4.953. Visti i chiari di luna che ci sono e oggi non dimentichiamo che Meta può fare da driver per quanto riguarda tutto il settore intelligenza artificiale, perché se le aziende si accorgono che spendono troppo per avere dei risultati a distanza di tempo possono anche rivedere i loro investimenti, era accaduto col metaverso proprio per fare un esempio e anche la superstar invidia potrebbe soffrirne, per cui è vero che parliamo di Nasdaq 100 ma a catena poi si ripercuote anche sullo standard in Polo 500. Quindi per rispondere al telespettatore io preferirei sempre debolezza per cui area 4.950. Allora ho preso il grafico di Mondo TV perché ci hanno chiesto di fare un'analisi del titolo che scende ora di circa un punto percentuale, quindi andiamo su appunto quelle aziende più piccole. Ti chiedo un'analisi tecnica del titolo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Va bene, ok. No, nel senso che tu Irene non sei abituata, con Emerick facciamo moltissi parietti perché io in realtà quando usciamo fuori dalle larghe capitalizzazioni entro proprio nella mia comfort zone. Tutte queste aziende, soprattutto quelle che hanno una storia abbastanza datata, le conosco quasi visceralmente. È il problema che su Mondo TV c'è pochissimo da dire. Purtroppo qui è un problema di credibilità. Al di là che l'analisi tecnica la possiamo fare e adesso il titolo potrebbe anche provare un ribalzo e tra poco darò anche dei livelli tecnici precisi. Il vero problema di Mondo TV è la mancanza ormai cronica di consensus da parte del mercato. Perché Mondo TV era considerata una società, non voglio dirti modello, ma molto ammirata. Era andata addirittura, e non parliamo di secoli fa, dicembre 2017 a 7,33. Oggi siamo a 0,20 perché purtroppo ha commesso un errore, dal mio punto di vista incredibile, quando ha svalutato in maniera impressionante la sua library e questo ha fatto sì che prima che i retail, che magari sono gli ultimi a convincersi che ci sia qualcosa che non va, è stata completamente abbandonata dagli investitori istituzionali e adesso oltretutto per finanziarsi utilizza i famigerati POC, le obbligazioni convertibili che vengono esercitate da chi finanzia queste società in difficoltà e in cambio hanno azioni con uno sconto medio tra il 9 e il 10%, per cui chi oggi crede ancora in Mondo TV deve sapere che purtroppo il massimo che può accadere è che in alcune fasi ci siano dei momenti di rimbalzo. Questo potrebbe essere un momento propizio, anche se ha toccato di recente il 19 di aprile un nuovo minimo storico a 0,1956, potrebbe rimbalzare fino alla media mobile a 50 che è 0,21,8, poi 0,22,85 massimo del 4 di aprile, quindi media mobile a 100,0,23,6. Sono operazioni che a mio avviso vanno fatte solo in ottica di trading e lo stop dovesse andare a perdere nuovamente il minimo storico di 0,1956 deve essere però tassativo. Andrea, vediamo se seleziono una domanda su un altro titolo che ti piace di più. Piaggio ci chiede Marco se puoi fare l'analisi tecnica sul titolo. Ma sai, ognuno di noi ha i suoi titoli preferiti, però in Italia fare value trading non è facilissimo. facilissimo. Prima parlavamo delle sette sorelle americane che hanno condizionato l'andamento anche dei principali indici europei, delle principali aziende europee, perché anche in Europa abbiamo i nostri colossi che hanno fatto mercato. Prima, e ti parlo del 2021, ci siamo trovati a assistere a una situazione esattamente opposta. Venivano trascurate quasi le larghe capitalizzazioni e venivano comprati solo titoli Mid Cap, Star e I'm Oggi Growth. Piaggio è una Mid Cap a pieno titolo, i conti sono piuttosto solidi, però dal punto di vista tecnico è impostata per andarsi a cercare nuovi livelli di supporto statico. Il primo obiettivo è 2,64,8 minimo del primo di dicembre, poi c'è 2,62 minimo del 23 novembre e infine si va sui minimi di periodo toccati di primo di novembre a 2,48,6. Quel livello non deve essere assolutamente perso e credo che Piaggio non lo perderà, per cui non appena avrà fatto una base, se fosse poco sopra 2,60 meglio, possiamo anche provare a comprare il titolo con uno stop sotto 2,48,6 per un rimbalzo che nel medio termine può tornare a essere sui 2,93, 2,94. Andrea, ti giro subito un'altra domanda. Prima però andiamo dai colleghi di CNBC perché c'è un annuncio che poi si riverbera anche sul fronte italiano, abbiamo parlato di STM che è il titolo più acquistato. L'amministrazione americana di Biden annuncia un finanziamento da 6 miliardi di dollari nel Chips Act che andrà immediatamente a beneficio anche di Micron Technology, questi alcuni ovviamente, questo è l'iShares Semiconductor in questo momento, in particolare il produttore di chip statunitense Micron Technology riceverà complessivamente più di 13 miliardi di dollari in finanziamenti e prestiti governativi per aiutare a costruire fabbriche di chip a New York, i DAO, mentre l'amministrazione Biden cerca di spostare le catene di approvvigionamento lontano dall'Asia. Riportarlo per primo è stato il Financial Times specificando che l'accordo preliminare che comprende 6 miliardi di dollari in finanziamenti diretti e fino a 7 miliardi e mezzo di dollari in prestiti rientrerà nel Chips Act del 2022. Possiamo rientrare in studio, nelle ultime settimane sono stati annunciati pacchetti di finanziamento anche per Intel, TSMC e Samsung, questo sicuramente poi lo andremo ancora a vedere nel dettaglio in concomitenza dell'apertura di Wall Street. Andiamo ancora con una domanda per Andrea in questi ultimi minuti che restano. Tenaris, Andrea ci chiedono un'analisi con Stop Loss. Tenaris è molto interessante perché dimostra quello che ho detto in fase di inizio trasmissione che viviamo in un mercato irrazionale perché se Tenaris venisse valutata come Saipem dovrebbe valere il doppio se non il triplo. Invece il titolo dopo aver fatto peraltro un rally molto importante partito dalla metà di gennaio quando valeva ancora meno di 14,5 e culminato col massimo di 18,72 dell'8 di aprile ha iniziato però una fase di correzione. Oggi addirittura sta rischiando di perdere la media mobile a 50 che è 17,34 fatto un minimo a 17,26. Al momento non vedo ancora un tentativo di base. Probabilmente potrebbe farla poco più sotto in area 17 e iniziare a muoversi in range compreso tra 17 e 18,72. Poi adesso non ho combinazione il calendario sotto mano ma dovrebbe rilasciare in questi giorni i dati del primo trimestre. Questo potrebbe favorire sicuramente un rimbalzo perché pur non essendo esaltata così come Saipem ha numeri ben migliori sia a livello di marginalità che di posizione finanziaria netta. Per cui su debolezza è un titolo che in questa fase si può tranquillamente comprare. L'ideale sarebbe un ritorno in area 17 con uno stop per non darcelo troppo largo direi sotto il minimo del 22 di febbraio 15,86 e mezzo perché poi c'è il gap lasciato aperto a 15,10 sul massimo del 21 di febbraio che è un po' distante. Quindi area 17 acquisto stop 15,86 e mezzo. Sto recuperando il grafico per la prossima domanda. Allora andiamo a rispondere a Mario da Verona. Quali prospettive future si possono aprire nella società farmaceutica Evotech dopo il crollo di ieri della 31,2? Grazie, buona giornata. Titolo Evotech che oggi sale del 3,2? Guarda, Evotech mi costa tempo caricarlo per cui lo faccio volentieri, mi mandi un'email a info-andrea-cartisano.it e gli risponderò non appena mi avrà scritto perché perdo tempo, devo aprirlo su un'altra piattaforma perché non è in watchlist. Siccome siamo già vicini alla chiusura gli rispondo io privatamente, non ti preoccupare. Va benissimo, va benissimo. Allora andiamo rapidamente a dare uno sguardo ancora ai titoli che si muovono di più con sicuramente STM che ora avanza del 2,5%, 3% quasi, più acquistato ne abbiamo parlato, abbiamo citato anche ERA che segue con un rialzo dell'1,3. Leonardo invece oggi è il più venduto, perde circa 3 punti percentuali, scende anche Moncler, meno 2,4%. Posso chiederti l'analisi tecnica di Moncler? Quindi guardiamo anche il riusso che non abbiamo toccato. Se sei d'accordo, visto che come diceva il grande Aldo Biscardi il tempo è tiranno, io farei Moncler e poi farei anche Ricordati perché è un'altra storia molto importante, ieri il titolo è crollato, ve ne siete occupati diffusamente anche voi sul sito di Milano Finanza per cui sono sicuramente le due storie forse più interessanti di breve periodo. Moncler ha un problema, si chiama Stone Island, io ammiro tantissimo, l'ho dichiarato apertamente in più occasioni Remo Ruffini, Remo Ruffini ha fatto un lavoro clamoroso di rilancio di Moncler che quando l'ha presa era un'azienda completamente dimenticata dal mercato, bisogna dire la verità che la gestione sotto Marina Salomon è stata molto molto negativa. Il problema qual è in questo momento di Moncler? Che non sta pagando l'acquisizione di Stone Island, poi in realtà l'acquisizione è di CP Company che detiene il marchio Stone Island per due motivi, primo perché la stragrande maggioranza del fatturato di Moncler è ancora legata al marchio Moncler, al brand Moncler. Per quanto riguarda Stone Island oltre ad avere ancora una parte marginale dei ricavi è quella che non cresce nel gruppo perché anche sui ricavi preliminari del primo trimestre c'è stata una contrazione che ha contribuito a diminuire la crescita dei ricavi che comunque è stata del 16%. Oggi mi sarei aspettato un andamento più positivo del titolo. In realtà sta perdendo la media mobile a 50 che è 66,05 e ha un supporto molto importante sul minimo di breve periodo toccato il 16 di aprile a 63,56 per cui al momento è trading range 63,56, 67,42 ma la mia idea è che possa provare a ritornare sui massimi di periodo di 67,86 toccati il 3 di aprile e poi a 69,8 massimo del 2 di aprile. Per cui per il momento rimango ancora moderatamente fiducioso su Moncler. Vogliamo toccare anche Ricordati? Allora Ricordati perché è importante toccarla? Perché ieri aveva provato a rompere il rialzo, nuovo massimo di periodo a 53,4, poi ha fatto una engulfing birish devastante con un range molto molto ampio. Massimo 53,40, minimo 49,90 con la perdita della media mobile a 50 che è 51,16. Oggi perde la media mobile a 100 che è 50,01 e va a fare un minimo a 49,02. Il motivo perché, Ricordati è scesa, è che si è diffusa la voce che CVC voglia vendere la propria partecipazione e di conseguenza è fondamentale la tenuta dell'importantissimo doppio minimo di 48,54 per evitare un ritest della media mobile a 200, 47,44 e poi il minimo del 5 di gennaio 47,29. Forse abbiamo ancora qualche istante. Chiedo alla regia perché sono arrivate ancora alcune domande. Ti giro rapidamente la domanda di Antonio che chiede un tuo parere, il parere del volcartisano su generali assicurazioni. Allora, generali quello che doveva fare secondo me lo ha fatto. Cosa intendo dire? Che dal minimo del 20 ottobre 17,98 è arrivato fino a 23,70 del 27 di marzo. Adesso si trova in un trading range compreso tra 22,24 e 23,70 appunto e continuerà a muoversi ancora per diverse sedute probabilmente sia oggi che vabbè il 25 aprile che domani che anche la prossima settimana. Per cui è un titolo da mantenere ma non da comprare. Lo comprerei solo se tornasse sul supporto statico, per cui minimo del 16 di aprile 22,24 con stop a 21,79. Ultima domanda perché è arrivata proprio ora. Ti chiedono un'analisi, ecco perché abbiamo partito di Moncler, giustamente. Bronello Cucinelli oggi perde l'1,2% circa, 95,35 in questo momento il prezzo. Quanto abbiamo? Due minuti riesco a prenderli? Certo, vai. Perché devo fare un discorso molto più complesso che riguarda un po' tutto il settore luce. Sono gli ultimi due ma direi che vale la pena per Bronello Cucinelli. Vai pure. Sì, no, no, io lo dico sempre, tu non lo sai perché ti occupi di altro in classe, però io sono andato anche in pellegrinaggio a Solomeo, quindi voglio dire Bronello Cucinelli è Bronello Cucinelli. Vorrei andare anch'io presto, magari lo organizziamo insieme, facciamo un pullman verso Solomeo. Molto volentieri, molto volentieri, tanto parlare anche solo due o tre ore con lui ne vale il viaggio. Però bisogna essere come al solito molto pragmatici in borsa, ovvero la situazione del settore lusso è molto complessa perché è quasi a macchia di leoparto, perché abbiamo avuto comunque dei risultati, non voglio dire disastrosi, ma molto negativi di Kering, in particolare sta soffrendo molto il marchio Gucci, dei risultati non così brillanti da parte di Louis Vuitton. Moncler comunque è cresciuto a doppia cifra, Bronello Cucinelli è cresciuto a doppia cifra, Ferragamo è in una crisi profonda da diversi esercizi. Per quanto riguarda Bronello Cucinelli qual è il problema? Che è talmente brandizzata al personaggio, e non me ne voglia Bronello Cucinelli, ma lo dico in tono positivo, che il mercato gli ha assegnato dei multipli che nel settore lusso, almeno in Italia, non si erano mai visti. Per trovare dei multipli paragonabili dobbiamo parlare di Hermès, che peraltro ha una storia molto più importante, perché parliamo della metà del 1800, nascono come sellai. Questo significa che il mercato ha capito poi l'eccesso con il massimo del 14 di marzo, massimo storico a 122.9, chiusura con Sudistar a 116.8 e da lì è iniziata la discesa. Oggi sta perdendo la media mobile a 100, che è 96 euro, credo che il titolo possa arrivare fino al minimo del 29 di gennaio a 89,95. Anche a quei prezzi il titolo sarebbe ancora valutato in maniera estremamente generosa, però finché ci sarà, e gli auguro di vivere ovviamente fino a 100 anni, Bronello Cucinelli, probabilmente il mercato assegnerà alla società dei multipli maggiori rispetto a quelli del settore di appartenenza. Andrea Cartisano, grazie per il dialogo di questa mattina, grazie per essere stato con noi. Un caro saluto a te e ancora a tutti i telespettatori. Alla prossima occasione, grazie Andrea, grazie a voi per averci seguito, vi lascio alla programmazione del canale. A più tardi.